Il prossimo weekend ci sarà questo famoso incontro a Verona, questo miti con la famiglia. Noi ci saremo, ci saremo come amministrazione e come DEMA ma non al convegno. Ci saremo a protestare e a rappresentare la nostra indignazione nei confronti di questo governo che sostiene apertamente questa iniziativa, addirittura ci avevano dato il patrocinio della presenza del Consiglio, poi di fronte a una sollevazione popolare Conte ha fatto marcia indietro, ma comunque c'è Salvini, c'è il Ministro della Famiglia, c'è il mezzo governo. Il manifesto di questo convegno è che la famiglia è in pericolo perché le donne lavorano, perché c'è il divorzio e gli omosessuali. Oltre a essere il governo più nero della storia della Repubblica è il governo che maggiormente ci sta riportando al Medioevo. Non è sufficiente prendere le distanze a parole come fa qualche altro esponente della maggioranza parlamentare o del governo. Io non riuscivo a stare insieme a persone che si ispirano a questa mentalità mentecatta, osturantista da Medioevo. Torniamo a Giordano Bruno, questi sono pericolosi per gli altri, forse anche per loro stessi.